Con gran piacere l'assessore regionale Gianluca Gallo, il direttore generale di un'avventura di Giacomo Torrinazzo, il direttore di settore OVF, e ringrazio i sindaci che nonostante io abbia preparato ieri sera tardi, però tutti presenti, a fortuna anche stamattina, ci devo dire soprattutto di grazie perché è importante sentire la vicinanza del territorio quando si registrano giornate importanti come quella di oggi. Oggi, fondamentalmente, a distanza di un mese dall'insediamento in questa provincia, diamo un risultato concreto, tangibile, che dimostra tutto quello che abbiamo detto al momento dell'insediamento. Non siamo qui a riscaldare Portone, ma crediamo fortemente che la provincia di Portone debba ritornare in brevissimo tempo al ruolo che gli spetta nell'ambito non solo del territorio provinciale, ma anche e soprattutto di quello regionale. Questo territorio deve avere la giusta attenzione e oggi l'assessore Gallo dimostra che ciò che diciamo, non lo diciamo tanto per dire, ma lo diciamo perché abbiamo piena consapevolezza di ciò che diciamo e di ciò che facciamo, avendo un rapporto forte, diretto con il governo regionale, un rapporto amicale, un rapporto politico, un rapporto che fondamentalmente testimonia una visione comune di Integna. Grazie! Grazie!